Gli omega 3, i grassi buoni contenuti nel pesce, nelle noci e in alcuni semi funzionano come antidepressivo. Lo ha dimostrato uno studio canadese realizzato da una rete di università. La ricerca indica che l'uso di integratori a base di omega 3 ha buoni risultati. Nel corso della sperimentazione la metà dei pazienti è stata trattata con integratori di acidi grassi, l'altra metà invece con capsule placebo riempite di olio di girasole. È risultato chiaro che gli omega 3 erano particolarmente efficaci nelle persone con depressione, ma non ha effetto nei pazienti con disturbi ansiosi. Ora i ricercatori puntano ad uno studio tra gli integratori di acidi grassi e gli antidepressivi.